ciao a tutti ragazzi buon 2022 primo video dell'anno e sono qua con un sacco di buone notizie per voi e invece no perché chiellini è positivo al covid arturo è positivo al covid pinsoglie positivo al covid e tra quattro giorni si gioca juventus napoli ci sono un sacco di positivi in serie a e tutte le partite magicamente sono a rischio auguri buon anno anche a voi tornando seri anche se il discorso che ho fatto non è molto distante dalla realtà come state per iniziare così in chiacchiera avete festeggiato bene il 31 avete iniziato bene il 2022 io ho deciso di mettermi per questo primo video dell'anno una maglia che va a simboleggiare quelli che sono i buoni propositi dell'anno e quelli che sono tutti i limiti della juventus in questo momento dato che tutte le volte che ragioniamo su una trattativa alla fine della fiera si torna lì non ci sono questi però è tornata la sedia mi hanno mandato una parte da riparare anche se le sedie le rotelle ancora non sono perfettamente stabili ma spero di non cadere durante il video ciao a tutti ragazzi primo video del 2022 l'ultimo del 2021 è stato movimentato e tante piccole cose di quel video le prendiamo le traspugniamo ne parliamo sicuramente in questo video di oggi come al solito vi chiedo di mettere un mi piace a questo video proviamo ad arrivare a 2022 like dato che abbiamo non uno di più non uno di meno precisi 2022 poi facciamo lo screen dato che sarà una roba simpatica primo video dell'anno ecco una roba così e poi scaricate one football il link per farlo è gratis ed è qui sotto in descrizione lo trovate dove potrete avere sul vostro telefono l'applicazione anch'io sul mio ovviamente one football e ieri sera mentre tornavo in treno da roba mi sono guardato e c'erano tutte le chiacchiere su maurito icardi e quindi ho detto ma chissà e qui e là non lo so vediamo icardi la juventus scaricate one football è proprio di icardi la juventus dovremo parlare in questo video perché se l'ultimo ha parlato di morata che se ne andava e chiedevo la juventus una cosa cioè di lasciar partire morata immediatamente ma se e solo se poi ci poteva essere un sostituto all'altezza subito pronto perché dicevo questo se dobbiamo cedere morata ancora tre giorni alla fine del mercato poi finisce esattamente come con cristiano ronaldo in cui tutti i club sanno che abbiamo necessità di acquistare perché la bomba morata è arrivata boom subito così pubblica tra la fine e l'inizio dell'anno adesso tutti ti prenderanno per il colletto nel senso che sanno che è un giocatore scontento in casa giocatore che se ne vuole andare che già l'accordo con gli altri e che ti serve un attaccante quindi ti serve un attaccante perché sei nella situazione di puntini puntini bene le regole le faccio io e già questo non è una bella cosa ma prendete questo e mettetelo agli ultimi giorni di mercato moltiplicatelo per mille questo non può permetterselo la juventus proprio perché non ci sono questi qua e già a gennaio vai a ipervalutare i giocatori se aggiungiamo che li vai a ipervalutare a pochi giorni alla chiusura quando hai necessità assoluta di prendere un giocatore allora capirete anche voi che si rischia la frittata quindi se morata se ne vuole andare che se ne vada adesso ok sarò duro se invece non si troverà in tempi brevi un sostituto di alvaro morata che rimanga alvaro morata perché perché poi diventa complicato per l'eventus andare sul mercato e fare qualcosa qualcuno l'ha letta come voglio tenere assolutamente morata e mi ha detto come puoi voler tenere morata ma il ragionamento è ben diverso io non è che voglio tenere morata io ragiono così se un giocatore è scontento e se non vuole andare quella è la porta siamo la juventus non piangiamo per nessuno se non per giocatori che hanno fatto la storia e che comunque abbiamo superato perché dopo del piero comunque per quanto del piero sia l'emblema no della juventinità ci sono stati tanti altri campioni tanti altri giocatori che ci hanno fatto battere il cuore e sì di tanto in tanto ci viene a dire se ci fosse però è ovvio che si guarda sempre avanti quindi se ne è andato ronaldo quest'estate siamo sopravvissuti abbiamo avuto delle difficoltà certo lo faremo anche con morata a cui voglio un grande bene ma se non vuole più rimanere la juventus ed affascinato da altre prospettive grazie di tutto quella è la porta e ora noi ci concentriamo su un attaccante che probabilmente potrebbe essere appunto mauricardi allora sapete bene come la penso su mauricardi per me e l'ho detto anche ieri sera è un grande sì se si riesce a fare un prestito senza obbligo di riscatto che sia secco che va bene ma non benissimo bene benissimo è un prestito con diritto di riscatto perché vi dico questo perché arriva Icardi lo valuti vedi come va Icardi è un classe 93 quindi sicuramente non è il giocatore più vecchio del mondo al termine di questa stagione sportiva quindi nel 2022 avrà 29 anni quest'estate a 29 anni e mezzo potrei decidere di riscattarlo se avrà fatto una buona parte di ritorno ok se avrà fatto un buon gerone di ritorno è ovvio che le cifre devono essere basse ma se rimangono le stesse del fare morata per intenderci 5 più 30 una roba del genere 5 di prestito più 30 di diritto di riscatto i 5 milioni del prestito li prendi la morata quindi non paghi niente perché li hai già pagati quest'estate paghi d'ingaggio ovviamente che forse dovrei aggiungere qualcosina rispetto a quello di Alvaro Morata però stiamo parlando di metà stagione poi quest'estate a bocce ferme ragioni come è stato Icardi cosa può darmi Icardi riscattando la 30 milioni sul lungo se non riscatto Icardi e questi 30 milioni ce li ho in cassa e devo prendere un attaccante chi è l'attaccante che mi convince di più ci sono possibilità di andare su Vlaovic sì proviamoci no andiamo su un altro nome non ci sono altri nomi che mi convincono a 30 milioni o aggiungendo qualche milione nel senso voglio Scamacca me lo chiedono a 50 ha senso 50 per Scamacca o conviene 30 per Icardi se tu non fai un obbligo di riscatto e se tu non fai un prestito secco quest'estate hai la possibilità di farti tutte queste domande se hai l'obbligo di riscatto sai che prendi Icardi adesso quest'estate non puoi pensare ad un altro attaccante se hai il prestito secco prendi Icardi fa 50 gol nel ritorno torna al PSG e magari lo vendono a 60 o qualcun altro fa schifo è là però non ti tiene aperta nessuna possibilità sul fare bene quindi io un diritto di riscatto lo vorrei poi formula fantasiosa dato che quando non ci sono soldi devi usare un po' l'immaginazione prestito secco che diventa obbligo di riscatto nel caso in cui la Juventus arrivi almeno in semifinale di Champions League io ve lo dico e lo sapete bene non sono per il prestito con obbligo di riscatto di Icardi sarei ben lontano dall'obbligo perché davvero se poi ci sono delle possibilità per Vlaovic-Telebruci in questo caso ma sono disposto a comprare Icardi con obbligo quest'estate arrivando nelle prime quattro di Champions perché vi dico questo? intanto perché arrivare nelle prime quattro di Champions con questa squadra sarebbe oro che cola in seconda battuta perché ragazzi diciamoci la verità per cosa viviamo noi tutti gli anni? per le emozioni più arrivi avanti in una competizione importante più ti emozioni e pensare dopo tante delusioni quest'anno di poter dire sono arrivato nelle prime quattro d'Europa di Champions League io sarei contentissimo secondo me vai a overperformare questa squadra secondo me dovrà superare gli ottavi di finale e poi Icardi troverà una squadra forte e probabilmente uscirà questa è la mia previsione che vi faccio sulla Champions secondo me è possibile passare col Villareal dipenderà tanto da noi dipenderà anche dal mood con cui arriveremo perché se rimarrà morata e sarà scoglionato poi forse sarà un po' più complicato però passare gli ottavi non è impossibile e poi guardi quello che viene viene probabilmente vai a casa ma comunque se arrivi nelle prime otto d'Europa sei contento se arrivi nelle prime quattro sono disposto a riscattare i cardi con obbligo sono disposto poi bisogna capire a denarini, a questi quanto vuole tutti gli anni perché se vuole dieci milioni allora ovvio che non mi siedo neanche a trattare l'obbligo però inizia a diventare interessante ci sono un paio di cose da dire partiamo dalla prima Icardi è meglio di Morata? puntini puntini punto di domanda vi dico la mia sì vi dico la mia sì perché vi dico di sì? perché la Juventus ha bisogno di questo in questo momento storico qui con quello che abbiamo visto fare la Juve col tipo di gioco che chiede l'Egre attaccante sì Mauro Icardi alla grande ricorderete avevo fatto una classifica io mettevo tutti i calciatori le prime punte che volevo a gennaio il primo è Vlaovic tra Vlaovic e il secondo già che Icardi appunto c'è una voragine ma il primo nome che ritenevo possibile a gennaio cioè Icardi significa che è il miglior attaccante che secondo me la Juventus può andare a prendere vi dicevo qualche giorno fa invece in un video che più ci penso più passano i giorni e più il nome di Mauro Icardi è quello che mi convince di più e che mi fa dire bisogna andare su di lui presto lesti andate correte ieri sera ci sono stati i primi contatti ufficializzati da Gianluca Di Marzo che non significa che la Juventus ha preso Icardi significa che la Juventus è consapevole del fatto che Alvaro Morata ha accettato il Barcellona il Barcellona è in lista per prendere Alvaro Morata sta trattando con l'Atletico perché anche lì l'Atletico vuole l'obbligo di riscatto 35 milioni il Barcellona è convinto sono a faracci loro però la palla è della Juve se la Juve dice di sì Alvaro Morata parte e va a Barcellona e da noi arriva Maurito Icardi perché? perché Allegri non era convinto il nome di Depay e io in prima battuta ho detto ma come fa la Juventus non essere convinta il nome di Depay per un motivo la Juventus come vi dicevo l'altro giorno probabilmente ha la volontà di prendere un solo calciatore un solo attaccante per anche ragioni di lista e ragioni di possibilità di mercato a gennaio quindi se esce Morata e prendo Depay non mi cambia niente se non che Depay probabilmente è più forte di Alvaro Morata ma prendiamo un giocatore che va ambientato che non conosce la serie A non conosce la lingua non conosce gli schemi di Allegri allora tanto vale fare gli ultimi sei mesi con Morata per quanto la mia preferenza vada comunque a Depay se invece si vuole cambiare che si cambi nel prototipo di attaccante che serve all'allenatore che è Mauro Riccardi che conosce l'ambiente conosce la lingua non conosce gli schemi di Allegri però è il tipo di attaccante che serve ad Allegri qualcuno vi potrà dire eh sì però la Juventus non arriva in area di rigore perché c'è anche un certo opinionista no? che più che opinionista è crociate assolute di valori assoluti che lavora in una televisione italiana quindi pagata dallo Stato che si permette di definire squadre non squadre si permette di dire che vabbè lasciamo stare perché bisogna essere anche meno strafottenti nella vita e ricordarsi che quando esprime un'opinione è un'opinione e non la verità ok? e dice non ci serve in area ne abbiamo parlato qui sul canale abbiamo fatto le analisi tattiche abbiamo visto abbiamo visto delle lavagne abbiamo visto delle statistiche le abbiamo analizzate le abbiamo contestualizzate abbiamo ragionato per valori ok? per singole partite per momenti di gioco per situazioni vi invito a recuperarvele e quello che abbiamo visto è che la Juventus in area comunque ci arriva anche statisticamente crea meno azioni assolutamente di quelle che sono davanti però tira anche di più di altre per dire tira più in porta del Milan di Atalanta tira poco meno in porta del Napoli quindi non stiamo parlando di una squadra che non tira in porta ma di una squadra che è molto imprecisa perché manca un centroavanti Icardi è il prototipo di attaccante ideale per questa Juve è il primo vero centroavanti che andremo ad acquistare nel posto Iguain addirittura esagero che non significa che è più forte di Iguain ma è più centroavanti di Iguain è più attaccante d'area di rigore rispetto a Pepita che è un giocatore molto più associativo a cui piaceva venire a prendere il pallone molto lontano anche dall'area che poi si catapultava in aria e andava a riempirla però Iguain veniva anche a giocare molto su altre quarti Icardi no Icardi sta là Icardi è un giocatore d'area di rigore io non ricordo neanche più l'ultimo che abbiamo avuto d'area di rigore forse davvero quello che mi viene in mente maggiormente a parte Luca Toni per dire che ha fatto pochi mesi da noi ma David Treseguet l'ultimo vero attaccante d'area di rigore che mi viene in mente è David Treseguet a parte Luca Toni che ripeto ha fatto veramente poco Icardi è quel giocatore lì è del giocatore che in questo momento ci serve perché ci serve? perché c'è anche la possibilità del lancio lungo che è sempre stata una cosa che Allegri ha utilizzato tante volte noi non riusciamo più ad alzare il pallone dobbiamo sempre giocarla palla a terra vengono fuori i nostri limiti tecnici e molte volte perdiamo palla mi viene in mente il gol che prendiamo con l'Atalanta con Morata che viene a prendere la palla sulla tre quarti sbaglia l'appoggio ripartenza ci fanno gol questa è una cosa che non deve accadere perché l'attaccante deve essere abituato a lavorare spalla alla porta e quei palloni lì devono essere il suo pane quotidiano quindi se Morata che non è l'attaccante ideale per questa Juve non è in grado di svolgere quel compito se si ha la possibilità di cambiare in corso un attaccante che non fa bene quello di mestiere con un attaccante che fa bene quello di mestiere io lo faccio tutta la vita lo faccio tutta la vita ma ricordiamoci che non c'è ancora la conferma ci sono i primi contatti le prime voci l'ultima riguarda la forma fisica di Mauro Riccardi io ci ho fatto anche un TikTok un Reels chiamatelo come volete uno Shorts e lo lascio anche alla fine di questo video se volete in cui ironizzano sulla storia la forma fisica di Riccardi l'avrete vista tutti la vedrete anche alla fine di questo video io ora non so se quella foto è vera o falsa mi sono guardato alcune foto di Riccardi di Capodanno quindi più recenti rispetto a quella storia che era circolata la settimana scorsa e non mi sembra così disastrosa la situazione ad ogni modo per questo che vi dico muoviamoci in fretta adesso io non mi immagino un Morata con il Napoli un Morata con il Milan con la Roma nell'immediato futuro abbiamo un gennaio e un febbraio di fuoco nell'immediato di settimane nelle prossime due partite che si giocano in dieci giorni già Morata è uno che se sta bene bene se sta male è un problema figuratevi se c'è anche la testa dall'altra parte quindi muoviamoci e aggiungo muoviamoci perché lavorare in gruppo ok con un giocatore come i Cardi in questo momento in cui ha bisogno di buttare giù dei chili magari è ancora più efficace è ancora meglio perché magari anche lui come si allena al PSG sapendo che magari non rimane lì non è facile è ovvio che un professionista su queste cose non ragiona ma ricordiamoci che siamo Morata che i Cardi sono esseri umani e quindi se ha la testa da un'altra parte è ovvio che non saranno concentrati al 100% in quella parte in cui si trovano ora quindi muoviamoci per più motivi quello per farci prendere per il collo quello sul campo nel senso che Alvaro poi rischiamo che è per quello fisico perché i Cardi va ritirato e messo a lucido quindi muoviamoci io vinto il prima possibile davvero infrettissima non vedo l'ora di poter dire è successo qualcosa di più è successo qualcosa di meno per ora teniamoci questa informazione e cioè che Morata ha detto sia al Barca la Juventus probabilmente prenderà un solo attaccante al posto di Morata in ingresso quindi si esce a Morata non due attaccanti ma uno solo i Cardi è probabilmente la prima scelta nella testa della Juventus che l'ha chiesto al PSG e ora dipende tutto dal Paris Saint Germain se il Paris Saint Germain si accorda con la Juventus e propone qualcosa di interessante i Cardi a Torino in fretta veramente in frettissima e Morata Barcellona veramente in frettissima ma voglio sapere la vostra fatemi capire che cosa ne pensate di tutta questa storia se siete favorevoli alla cessione di Morata all'arrivo di Mauro Icardi se lo volete in prestito secco prestito con obbligo di scatto prestito con diritto io vi ho già spiegato le mie motivazioni la mia strategia anche eventuale per un obbligo di riscatto e le ragioni tattiche ora la palla passa voi voglio sapere la vostra opinione è un po' di france di france di france non 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 Grazie a tutti